Quando ero bambina, mia madre mi parlò di una profezia. Il mondo sarebbe stato coperto dalle tenebre e si sarebbe compiuto il destino dell'uomo. Disse che Dio era cambiato, era arrabbiato con i suoi figli. Charlie, vero? Sì. Quanti giorni mancano? Ci siamo quasi. Ma il tuo bambino finirà per bruciare. Cosa? Dovrebbe scusarsi. Oh mio Dio! Brucerete all'inferno! Sparale! L'ultima volta che Dio ha perso la fiducia nell'uomo, ha mandato un diluvio. Questa volta ha mandato degli angeli. E adesso? Non mi sembra il classico poliziotto. Nemmeno uno di Los Angeles. Sei qui per proteggerci? Non voi. Lei. Perché me? Perché tuo figlio è l'unica speranza di sopravvivenza dell'umanità. Sono qui. Scusa Rambo, ci spieghi contro chi stiamo combattendo? Gli angeli. Sapevo chi avrebbe mandato te, Gabriel. Hai sempre voluto compiacerlo. Al contrario di te. Non ci credo neanche in Dio. Sembra che neanche lui creda in te. Stai dicendo che questa è l'apocalisse? Sto dicendo che questo è uno sterminio. Ora siamo al sicuro? No.